Ciao ragazzi, buon blog nel video.it Allora, finalmente Apple si è decisa, ha rilasciato ieri un programma del 11 iOS 4.it Purtroppo non lo posso aggiungere in diretti, ho avuto la ... ... ... Allora, scusate, ho avuto questo video. Dicevo, in quanto avevo avuto dei problemi, la registrazione io ho fatto, ma... ...e ne dite durante le redagne, non a sabato, niente. Forse in futuro è molto probabile che lo rifarò. Adesso vedo come è detto. Prima di aprire... Ok, niente. Adesso si chiudici. L'abbiamo collegato dai nostri modem Wi-Fi. ... 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